Ciao, vorresti comprare un'auto elettrica ma non sai da dove catodo iniziare a leggere la scheda tecnica con tutte quelle K e quelle W? Se le lezioni di elettrotecnica sono o troppo lontane nel tempo oppure ti dava una noia, ecco le basi da sapere per approcciare il mondo elettrico. Il termine base non è a caso perché le batterie fanno da vera e propria base delle auto elettriche, lo fanno in quel modellino che vedete lì e lo fanno anche nelle auto vere e proprie, infatti vengono montate sul pianale per abbassare il più possibile il baricentro e quindi far sentire il meno possibile il loro peso durante la guida. Questa potremmo definirla come la cellula delle batterie, si chiama la cella, le celle non sono tutte uguali e la differenza di progettazione e ottimizzazione si ripercuote anche sulle prestazioni dell'intera batteria e quindi dell'auto. Oggi però mi limiterò all'elettrotecnica, non entrerò nella parte chimica. I termini che devi sapere sono due. Kilowatt indica la potenza e si applica in diversi casi. Potenza di ricarica, in questo caso il kilowatt indica quanto velocemente puoi ricaricare la batteria. Potenza di scarica, essendoci qua dentro un flusso a doppio senso, intendo proprio letteralmente un flusso di elettroni che si sposta dall'anodo al catodo e viceversa, anche la potenza di scarica è un dato importante. In teoria nella guida di tutti i giorni non ci serve, ma ricordati però una cosa, le batterie operano in un range di temperatura ideale. Sotto o sopra una certa temperatura, ad esempio, le prestazioni si riducono e questo non significa solo meno autonomia con il freddo, ma anche per esempio minor possibilità di attingere la potenza da parte dei o del motore e quindi prestazioni in termini di accelerazione che sono inferiori, visto che il sistema limita se stesso per proteggere batteria e occupanti. Se il produttore ha fatto bene il suo lavoro, però la batteria è inserita in un circuito di climatizzazione così da farla lavorare sempre nel suo intervallo ideale. Nota finale è anche la velocità di ricarica, dipende dalla temperatura e trattandosi di un processo che genera innavitabilmente calore è parimenti importanti la climatizzazione. Potenza del motore, qui ci siete già abituati, ai kilowatt vengono usati anche nelle auto tradizionali sia per calcolare il bollo e sono riportati anche nel libretto. Tranquillo però che di solito si tende a convertire tutto in cavalli per facilitare anche il raffronto. E arriviamo alla nota dolente, i kilowattora che misurano l'energia elettrica. Si tratta a conti fatti di una misura di capacità. Quanto carburante avete nel vostro serbatoio, solo che carburante è un termine per analogia, visto che qui di combustione non se ne vede neanche l'ombra. Può sembrare una cavolata, ma non guarderesti male uno che alla domanda quanti cavalli ha la tua auto ti risponde 50 litri di benzina. A parità di massa e di aerodinamica, un'auto con batteria da più kilowattora chiaramente avrà più autonomia. Kilowattora ogni 100 chilometri, generalmente intendiamo con questo dato il consumo delle auto, proprio come le benzina e diesel usano litri ogni 100 chilometri. Indica quanti kilowattora la vostra auto si mangia in media per percorrere 100 chilometri. Numero più basso significa maggiore efficienza e quindi minor bolletta della luce. Questa era la prima puntata della rubrica pillole elettriche. Se ti è piaciuta scrivi magari nei commenti quale altre pillole vorresti vedere realizzate, iscriviti ai nostri canali, anche a quelli social e soprattutto ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!